Che tra i tifosi di Cavese e Regina non corresse buon sangue era noto a tutti, ma che si arrivasse a tanto era difficile prevederlo, quando il calcio diventa un pretesto per sfogare antiche frustrazioni. I tifosi amaranto non dimenticheranno tanto facilmente quanto accaduto allo stadio Lamberti di Cava dei Tirreni prima del calcio d'inizio della semifinale playoff. Un'aggressione in perfetto stile hooligans, un vero e proprio agguato curato nei dettagli dai tifosi della Cavese, abili a deludere i controlli di un servizio d'ordine davvero imbarazzante. La polizia ci mette tanto, forse troppo tempo, ad intervenire. Quando lo fa i supporters campani sono già sotto il settore che ospite i tifosi amaranto. Accade di tutto, lo scontro è inevitabile. Servono almeno un paio di minuti per riportare la calma sul terreno di gioco dopo l'agguato i tifosi della Cavese tornano in curva indisturbati. Punire gli amici storici degli odiati salernitani era questo. L'obiettivo è stato centrato in pieno in un pomeriggio di ordinaria follia. Il resto è contorno. Persino la partita diventa un dettaglio perché parlare di calcio dopo quanto accaduto è un esercizio davvero complicato, anche se Cavese e Regina ci provano comunque regalare uno spettacolo degno di una semifinale playoff. Se la giocano a viso aperto, anche se alla Cavese basterebbe un pareggio per guadagnarsi la finale per via del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. La regina invece ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Gli amaranto la inseguono sin dall'avvio. Cozza, che all'appuntamento si presenta con il consueto 4-3-3, ordina ai suoi di prendere subito in mano la gara. Al momento di buttarla dentro però qualcosa si inceppa. Forgione non ha l'istinto del killer e alla prima disattenzione difensiva la Cavese ne approfitta per sbloccare la partita. Ci pensa d'Anna ad indirizzare la gara con una rasoiata che si infila sotto l'incrocio. La regina accusa il colpo ma non molla, anzi reagisce con l'orgoglio di chi non vuole arrendersi. Ma la fortuna gira le spalle agli amaranto che ha al tramonto della prima frazione e dopo aver sfiorato il pari più volte subiscono il 2-0 sugli sviluppi di una mischia fuori bondi in aere di rigore. La risolve Manzi per la regina e notte fonda. Cozza prova a scuotere i suoi gettando nella mischia Bramucci e Foderaro ma che non si è aggiornata. Lo capisci quando De Bode centra così il palo. La regina però continua a spingere alla ricerca del gol che riaprirebbe il match e il gol arriva al minuto 12 e il solito Oggiano a rimettere in corsa agli amaranto con un tocco morbido. Servirebbe però un altro gol per regalarsi almeno i tempi supplementari ma nonostante il forse in finale la regina non trova lo spiraglio giusto. Finisce 2-1 in finale ci va la cavese. L'avventura playoff per gli amaranto finisce qui. Il sogno Lega Pro per il momento torna nel cassetto tra mille rimpianti ed un'amarezza infinita per un pomeriggio di ordinaria follia.